Gli oltre 100 insegnanti del quinto circolo cittadino sono tornati per un paio d'ore sui banchi di scuola come studenti. Una lezione particolare, quella di quest'oggi, che ha visto in cattedra gli esperti di progetto Vita, coordinati dalla dottoressa Daniela Schieri. Scopo dell'iniziativa, voluta dalla preside Lidia Pastorini in collaborazione con la Croce Rossa, è formare il personale di Vittorino Collodi e Asilo Dante sull'utilizzo del defibrillatore. Lo scopo di questa iniziativa è innanzitutto molto importante, significa pensare alla formazione di tutti gli operatori scolastici, insegnanti, collaboratori scolastici, personali di segreteria di ogni scuola, in questo caso scuola Materna Dante, scuola Vittorino, scuola Collodi, su elementi di pronto soccorso. L'elemento di pronto soccorso specifico che impareremo è l'uso del defibrillatore e che abbiamo per ora solo per la scuola Vittorino, se qualcuno ce ne vuole regalare a qualcun altro, noi siamo molto contenti. A questa prima fase seguirà una seconda fase altrettanto importante. A settembre dell'anno prossimo le insegnanti formate, il personale formato, lavorerà, preparerà delle piccole lezioni d'uso del defibrillatore con i bambini delle terze, delle quarte e delle quinte, cioè 15 classi.